Ciao ragazzi, voglio dedicare questo video a quelle pochissime persone che stanno parlando un po' male della vita privata del nostro Diego Armando Maradona. Addirittura qualcuno dice che non si può piangere un cocainomane. Questa è la sua vita privata. Guardiamo l'arte di Diego. Diego, caso mai ti affacci al balcone del paradiso e senti queste voci in giro che parlano male di te, non le considerare proprio. Perché se senti bene, quasi sta piangendo per te. Si canta ancora la tua canzone. Oh mamma, 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 mamma. Sai perché innamorato sono. Ho visto Maradona, ho visto Maradona. Mamma, innamorato sono. Mi ricordo il 1980, io ero piccolissimo. Ci fu il terremoto. 23 novembre, una data che non dimenticherò più, come tutti voi ovviamente. E l'inizio degli anni 80 fu un po' tragico. Poi nell'85 la terra ha tremato di nuovo. Quando sei arrivato tu a Napoli. Ci riportate di nuovo i sorrisi in West Goppi e Labre. Hai portato di nuovo l'amore nel cuore. Ci hai fatto festeggiare, ci hai fatto cantare. Quindi, che volete più da una persona che è veramente riuscito a rallegrare i cuori di tante persone? Ma non solo noi napoletani. Tanti campani e non solo. Tanti italiani e non solo. A livello mondiale sei stato una figura che non cancelleremo più dalla nostra mente. Diego, io ti voglio un mondo di bene come tutte le persone che ti stanno piangendo. Sei il campione dei campioni. Quindi, chi parla male di Diego, perdonatemi. Non ha capito mangucazza la vita. Un bacio dal vostro Savio Cavalli. Perdonatemi. Mera sfuga.